Cittadini globali, è così che immaginano i ragazzi di oggi, i promotori di un'iniziativa per la formazione interculturale destinata ai docenti. Letizia Caffiero. Un seminario di formazione per docenti dedicato alla comunicazione interculturale nelle scuole, per fare in modo che i bambini e i ragazzi di oggi diventino domani cittadini del mondo. Imparare a dialogare con ragazzi di culture e lingue vicine e lontane in maniera efficace e lavorare in ambienti multiculturali in maniera appropriata, gli obiettivi del seminario a cura di Catherine Russo e Anna Mongibello dell'Università l'Orientale di Napoli. Il seminario si è proposto nel creare una sinergia tra scuola e università per implementare la comunicazione interculturale nelle scuole, quindi per sviluppare queste abilità nei nostri studenti, che sempre di più sono cittadini globali. L'iniziativa che rientra nella rassegna stranieri napoletani organizzata dal Comune di Napoli è rivolta ai docenti di lingua inglese e vuole offrire uno spazio di riflessione, ma anche un aggiornamento sulle strategie della comunicazione interculturale, così da incentivare l'accoglienza e l'integrazione degli studenti stranieri nell'area partenopea. Confrontandosi con lo straniero, molto spesso i ragazzi devono riflettere innanzitutto sulla propria cultura e quindi anche quelle differenze che sembrano comunque enormi poi vengono ridimensionate. Lo sguardo è rivolto quindi ad un'educazione inclusiva che parta da strategie comunicative efficaci per avanzare proposte innovative riguardanti il tema sempre più attuale della didattica nelle classi miste. L'occhio